Ti ricordi quante volte hai venuto in quel paese? Sì, certo. Ecco, adesso tu e i tuoi amici dovete mandare un canno a quel paese, proprio lo stesso paese. Mi raccomando! Anche tu, manda un clown a quel paese. Manda i clown dottori dell'Associazione Veronica Sacchi in Brasile, in Amazzonia, a Marituba e Sant'Anna Macapà per collaborare ai progetti della Fondazione Candia, nei lebrosari, negli ospedali, nelle scuole e nei centri per bambini disabili e abbandonati, nelle case d'accoglienza per ragazzi senza famiglia e per le donne vittime di violenza. Manda un clown a quel paese! Manda un clown a quel paese!